Il Festival della Solidarietà avrà inizio questa sera mercoledì 20 giugno alle 17.30 al Parco Mattei in zona Smia Iesi e animerà la città fino a domenica 24. Ricco di iniziative e appuntamenti, il programma è stato presentato durante la conferenza stampa che si è tenuta in comune nella mattinata di ieri. Presenti, oltre a diversi esponenti di alcune associazioni del territorio, Sandro Brilli, presidente dell'Avis di Iesi, che ha raccontato l'iniziativa e il sindaco della città Massimo Bacci, che ha sottolineato l'importanza del convegno, in programma per venerdì 22 giugno con inizio alle 21.15, intitolato Il Volontariato in Comune, avvio di un patto territoriale per il welfare. Tra i tanti appuntamenti da non perdere anche la giornata del donatore, organizzata per domenica 24 giugno con inizio alle 16.45, con la banda musicale di Pianello Vallesina e la cerimonia ufficiale di premiazione dei donatori benemeriti alle 17.45.